Questa volta Tino ci abbiamo messo molto meno e questo ci fa molto piacere perché la storia di Jessica di Sertore ci ha molto toccato, ha molto toccato tutti quanti perché avete potuto constatare la rabbia e il dolore che vive la famiglia di Sertore, avete sentito Patrizia e Gigi, la mamma e il fratello di Jessica. Ho trovato medici, criminologi, te siete bravissimi, veramente mi state aiutando tantissimo, spero che non mi abbandonate perché io voglio la verità su mia figlia perché non meritava una cosa così brutta, non meritava una cosa così brutta mia figlia, mia figlia era splendida, tutti sanno come era mia figlia. Noi ne siamo convinti ed è per questo che abbiamo subito sposato la tua richiesta di verità. Io voglio solo che mi aiutate, anche per un futuro di altre persone, altri ragazzi e ragazze che andranno a lavorare su queste compagnie, cioè io lo so non la riavrò più mia figlia indietro, però voglio giustizia perché mia figlia non meritava una cosa del genere, non la meritava una cosa del genere. Dottor Candiano si è fatto un'idea ulteriore? Stiamo cercando di raccogliere più indizi possibili, lavorarci su duramente affinché possano diventare poi delle prove, però fino ad ora tutti gli indizi portano ovviamente a una via completamente diversa e lontana da quella dell'atto del gesto suicidiario. Io non credo assolutamente, ovviamente parlo dopo una prima fase di analisi realizzata, quindi c'è da approfondire ancora molto, moltissimo, però per ora scarto definitivamente il gesto autonomo. E per trasformare un indizio in una prova un ruolo importantissimo è quello del medico legale, lei è entrato a far parte di questa squadra che cerca di ottenere la verità sulla morte di Jessica. Abbiamo letto la perizia medico legale, che poi diciamo anche qui, insomma il fatto che venga presentata con un anno di ritardo rispetto a quello che è l'attuazione, qualcosa che comunque non fa capire che non ci sia proprio una volontà o un'attenzione particolare in questo senso. La perizia medico legale ci dà un'indicazione abbastanza precisa. Allora l'elemento più improbabile è il suicidio, per tante condizioni che adesso non sto a dirvi, però ci sono tante condizioni che ci fanno pensare che sia l'elemento più improbabile. L'elemento invece molto più probabile è probabilmente quello che poi alla fine, se ci sarà una reale indagine fatta come si deve, sarà poi quello il risultato, è che ci sia stata una violenza, una violenza di natura meccanica, quindi sicuramente una sfissia. Volontario o involontaria questo chiaramente poi si valuterà. Però l'elemento importante in questo momento è quello di riuscire ad avere la prima autopsia, cioè quella che è stata realizzata lì all'estero, quello sicuramente ci toglierebbe tutti gli ultimi dubbi. In questo caso è fondamentale il lavoro dell'avvocato Lagezza che dovrà attraverso un arrogatorio internazionale avere tutti quei documenti che servono a voi per fare chiarezza sulla morte di Gess. Sì, è indispensabile, però è giusto dirlo, lo dico professionalmente, quindi con tutta la dignità del medico, che in questo momento l'elemento veramente meno probabile è quello che questa ragazza si sia uccisa volontariamente. Due professionisti del calibro del dottor Bacco e del dottor Candiano hanno un'idea comune su questa, stanno lavorando. Oggi c'è un collegamento con la trasmissione di Rai 1, la vita in diretta, racconterai quello che di fatto è raccontato a noi, anche loro potranno dirlo, e speriamo che tanti altri possano interessarsi e fare rumore affinché si possa arrivare alla verità. Ormai mi pare di capire non alla rassegnazione, perché c'è qualcosa da scoprire, e speriamo possa essere scoperto e si possa dare giustizia a Jessica Di Sertore.